Raja, sta sulla mensola in alto, ti serve uno scaletto, sai dove possiamo trovare uno scaletto? Iknasach Ma che fai? Parli napoletano? No signora, io non parlo napoletano No, no, tu adesso hai detto Iknasach Scaletto in indiano, scaletto in indiano si dice Iknasach Sì? Ma veramente? Iknasach significa scaletto in indiano, stasera lo dico alle mie amiche No, non dire amiche, signora, non dire amiche Che chic, tengo il domestico indiano Sì, ma quali indiani? Io sono anche i pezzetti Io faccio l'indiano per faticare Pochi trucchi, pochi solo non faccio, faccio capire, questo e questo Ma piatto per faticare, ma piatto, sì L'indiano è faticare, mica è faticare Arrivo signora, mannaggia, cani cancilla, mannaggia M'ha già fatto il vaccino, ma già fatto il tambeo, no? E muore a pombrullo, no?